Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale! Oggi vi propongo una treccia a 5 giocche con il nastro. Dopo aver annodato il nastro nella giocca centrale, ne prendiamo altre due e la prima laterale la facciamo passare sotto quella centrale, sopra il primo nastro e sotto il secondo. L'altra giocca laterale la facciamo passare sotto la centrale, sopra il secondo nastro e sotto il primo. Dopo aver effettuato il primo passaggio, aggiungiamo alle giocche laterali sezioni di capelli da entrambi i lati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Aggiungiamo la treccia con lo stesso nastro e allarghiamo le varie sezioni. E questo è il risultato, spero che vi sia piaciuto, se così lasciatemi un pollice in su, un commento per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che potete vedere l'articolo dedicato nel mio blog e se volete potete seguirmi anche su Facebook, Instagram e Twitter. E se vi va al prossimo video, ciao!